Buongiorno a tutti, siamo a Pero, siamo in un hotel e oggi sono in corso delle prove di selezione per l'azienda di Trenord partecipata da Regione Lombardia. Oggi qui abbiamo potuto capire come sia per Regione sia per Trenord evidentemente non ce n'è Covid-19. Noi abbiamo fatto delle foto all'interno dove abbiamo potuto vedere un distanziamento minimo, abbiamo potuto vedere qua un forte assembramento, abbiamo potuto vedere come ci siano comunque anche delle persone senza mascherina ma qui non c'è nessuno. Ci chiediamo Regione Lombardia che nei giorni passati ha violentemente criticato il Ministro Azzolina invece per dei concorsi fatti nella scuola dove addirittura si parla di 10 persone per aula quindi fatti rispettando tutte le normative. Mi chiedo oggi Regione Lombardia chi la governa? Che cosa sta facendo oggi per controllare la sua azienda partecipata? Sì, come avete visto la situazione è particolare, l'assembramento è sotto gli occhi di tutti. La stanza era una stanza molto grossa con dentro sicuramente decine e decine di persone, probabilmente un centinaio ad occhio. Ho chiesto a un po' di ragazzi, un po' di persone che erano presenti ad attendere il loro turno per entrare a fare la prova da dove arrivassero, molti arrivano dalla Calabria, dalla Sicilia, dal Piemonte, quindi insomma evidentemente essendo un concorso importante richiama a un'affluenza da tutta Italia. Come diceva anche Nicola, non è possibile che martedì si vada a votare una mozione in consiglio con la quale la Lega chiedeva al Ministro Azzolina di rivedere l'organizzazione del concorso per la scuola e qui due giorni dopo Trenord, che è un'azienda partecipata dalla Regione Lombardia, faccia un concorso come questo. Le immagini parlano da sole. Ovviamente qui sul posto non abbiamo trovato né la polizia locale né un'ambulanza o un presidio dell'ATS. All'esterno dell'edificio non abbiamo trovato nessuno, né di Trenord né dell'azienda che sta organizzando il concorso a verificare appunto le misure di sicurezza Covid. La signora ha accompagnato la nipote a fare il concorso. Ci stava appunto raccontando un po' come è andata. Allora, mia nipote arriva dalla provincia di Viterbo, si è, diciamo, è venuta in treno da me, a casa mia, e noi l'abbiamo accompagnata. Perché lei è qui di Milano, abita a Milano? Abito in provincia di Lodi. E come ha trovato la situazione? Allora, io sono andata lì, sinceramente ho avuto paura di avvicinarmi e ho mandato, ho fatto, sono stata un po' codarda, ho mandato mia nipote lì, ma mi sembra che c'è un bel po' di assembramento. Hanno tutti la mascherina? Eh, per carità la mascherina ce l'hanno, però sono tutti i vicini. Alcuni no, alcuni ce l'hanno abbassata sotto il naso. Ma avete visto se c'erano dei presidi che controllavano le distanze? Sì, no, no, non mi sembra. Ok. E' uscito fuori qualcuno che gli stava spiegando, però i ragazzi erano tutti lì, insomma un po' sembrati. Sì, ma le persone che uscivano a spiegare spiegavano per il concorso, non c'era personale che controllava le distanze, le misure di sicurezza. Sì, che tra un quarto d'ora, no, io non li ho visti. Non li ha visti, quindi non ha visto nessuno, né polizia locale, né T.S., né personale trenorde? No, no. E diceva sinceramente? Ho un po' paura, perché sì, ci vuole la mascherina, ma ci vuole anche il distanziamento. E quando ti chiamano, che iniziano dalla A fino alla Z, e si sta lì ad aspettare, è normale che sta parlando una persona per spiegargli dove devono entrare, per i marchi, devono portare la carta di debita. E tutti i ragazzi si sono sembrati tutti lì, è normale. Grazie signora. Grazie a voi. E buca al lupo per il concorso. Grazie. Grazie.